Signore e signori, benvenuti a tutti in quest'altro video YouTube, in particolare in questo Q&A. Proprio 30 ore fa ho fatto una storia Instagram, ho detto bombardatemi di domande ragazzi, infatti me ne avete fatte tantissime, così che io possa fare questo video. Come potete vedere siamo tornati a Dubai col maglione, visto il crimine ospitale che c'è qui e anche dal colorito, penso si possa ancora capire, speriamo dure il più possibile. Per chi di voi però ancora non mi conosce, mi chiamo Marco Bigliani, ho 21 anni e più di 20 immobili all'interno del mio portfoglio, che mi generano una vera e propria rendita, mi pagano costantemente ogni mese. Ora, tu che stai guardando questo video potrai pensare, Marco, com'è possibile che tu abbia più di 20 immobili, cioè 20 anni, 21 anni e più di 20 immobili, quindi un piccolo imparo immobiliare a tutti gli effetti che ti paga costantemente. Li hai ereditati questi immobili, sei partito con milioni di euro, con un sacco di soldi, eccetera eccetera? Assolutamente no ragazzi, sono partito tre anni fa, ne avevo 18, avevo 18 anni, completamente a zero, senza risorse, mi è sempre piaciuto il settore immobiliare e ho, diciamo, sfruttato un metodo quasi più che nuovo sconosciuto al panorama italiano che mi permette costantemente di sfruttare immobili altrui, prendere il possesso di questi immobili, ragazzi, in maniera totalmente legale, ci tengo a sottolinearlo, se no non starei facendo questo video YouTube, e dall'altra parte guadagnare una rendita da questi ultimi. Questo con un budget risorio o addirittura di investimento zero, perché ci sono due declinazioni di questo business. Qui sotto c'è un minicorso gratuito che vi spiega tutto dalla Z, visto che questo non è il topic di questo video YouTube. Però, iniziamo subito con le domande. Alex mi chiede, sono in un piccolo paesino? Ah ragazzi, premessa, me ne avete fatte veramente tante, non potrò leggerle tutte perché alcune non sono chiare, alcune si ripetono, eccetera eccetera. Quindi, concentrati bene anche sulle risposte e trovate anche molte di queste risposte in tutti i video YouTube che ci sono su questo canale. Alex mi chiede, sono in un piccolo paesino per lavorare con gli affitti brevi, mi devo spostare? Questa è una domanda. Allora, Alex, io arrivo da un paesino di 600 anime, Chiopris Viscone, si chiama, con la CH. CH iniziale, Chiopris trattino Viscone, cercalo su Google. Cosa ho fatto? Quando avevo 18 anni, ovviamente qui non ci sono hotel, non ci sono Airbnb, non ci sono strutture, quindi era una zona che non poteva funzionare. Ho preso la mia macchina, ho preso il treno, la corriera, quello che potevo prendere a quel tempo e sono andato a Trieste, per esempio, nel capoluogo della mia regione, a 40-50 km di distanza. Una distanza che in un'oretta appunto di viaggio, anche meno in macchina a 40 minuti, ci arrivo. Quindi ogni regione in Italia ha una, due, tre, quattro zone che potrebbero essere il capoluogo, zone particolarmente rinomate, dove ci sono un sacco di persone che visitano la zona e alloggiano a breve termine per molteplici motivi. Per lavoro, per turismo, per svago, per le lune di miele, per gruppi di amici che viaggiano, eccetera, eccetera. D'altra parte, per darti una prova concreta, c'è questo appartamento che abbiamo a Campiglia Marittima, un paesino di 10.000 anime, quindi molto molto piccolo. Ti metto una clip sullo schermo dove otteniamo costantemente queste prenotazioni. In particolare, per sei mesi all'anno, è una zona molto molto rinomata. Quindi la risposta dipende. Se sei in una zona, per capire questo, fai una ricerca su Airbnb, fai una ricerca su Booking, vedi se ci sono delle strutture, degli hotel che hanno investito magari milioni di euro per tirare su questi 20, 30, 40, 50 stanze e vedi effettivamente se ci sono questi tipi di strutture. Se ci sono, vuol dire che è una zona che funziona, perché tu avresti uno, due o tre appartamenti da riempire e non 30, 40 stanze. Poi Cri mi chiede, come fai a gestire problematiche su appartamenti in altre regioni? Bellissima domanda. Allora, innanzitutto la risposta, tra virgolette, semplice, ma allo stesso tempo non è semplice fare tutto questo, è creando delle procedure. Quindi check-in, check-out sono completamente automatizzati, pulizie sono completamente automatizzate, mi avvalgo di uno staff delle pulizie. O la seconda possibilità è tramite dei PM, quindi dei gestori. Appunto, io vendo ormai centinaia di studenti in tutta Italia, riesco ovviamente a scegliere questi PM, collaborare con loro e di lì ti do un 5%, un 8%, un 10% per risolvere magari eventuali problemi. Oppure un confisso, ti dico risolvi quel problema e ti do 100 euro per dire. Questo per me vale molto di più, perché se sono, per dire, a Dubai, come sono stati gli ultimi tre mesi, o sono in viaggio, o sono da qualche altra parte, per me mi costrebbe molto di più andare in quella zona, magari a Roma, a Torino, in Sicilia, completamente a 300 km da dove sono in quel momento, per risolvere il problema. Oppure, se vuoi, tra virgolette, o tu in questo caso operi nella tua zona, puoi fare 20-30 minuti in macchina, andare a risolvere un problema ogni magari 2-3 mesi, ci sta, avere 3-4 problemi all'anno, piccoli problemi, la lampadina che si rompe, la tenda che viene giù, la cordina del batter per dire che mi è successo un po' di tempo fa, che si stacca, tutte queste piccole cose, puoi andare tu a risolvere, oppure eventualmente, come faccio io, in una rubrica dove ho dei tuttofare, tra virgolette, segnati per ogni città, che chiamo, dico, guarda, loro conoscono già l'appartamento perché gli ho fatti venire, magari quando lo stavo lanciando e stavo creando queste procedure, di cui ti parlavo, li chiamo, dico, guarda, si è rotta la lampadina, devo cambiare questo, è venuta sulla tenda, devo cambiare la cordina del batter, eccetera, eccetera. Poi andare a farmelo, li apro con ovviamente bike o con qualsiasi altro dispositivo, li permetto di accedere all'appartamento, loro lo risolvono e mi mandano fattura, 30-40 euro che sono per risolvere il problema. Poi mi chiedono perché un ragazzo che deve affidare una stanza dovrebbe andare in un B&B e non in un hotel? Allora, i motivi sono molteplici. Innanzitutto, a livello di, è molto più vantaggioso andare in un, per esempio, in un B&B. Quindi, anzi, facciamo una premessa, è nata questa moda, tra virgolette, è esplosa questa moda di andare in case altrui ad alloggiare. Perché? Perché costa ovviamente meno, è molto più vantaggioso, c'è molto più spazio, ci sono molti più servizi. Cioè, se io sono anche una persona, io per esempio vado veramente raramente in hotel. Io credo che, per esempio, in hotel sia una cosa veramente da persone che sono a un alto livello. Cioè, o vado in hotel veramente da 400, 500, 1000 euro a notte, in suite particolari, dove ho veramente dei servizi importanti, ma andare nel tre stelle, nel quattro stelle, dal mio punto di vista, non ha nessun tipo di senso. Posso andare in un B&B, spendere addirittura meno e avere un appartamento tutto mio, dove ho un soggiorno, dove ho la cucina, dove ho dei tre... Poi magari non lo utilizzo, ma mi piace avere dello spazio. Magari sono in tre, quattro persone. Se voglio stare con gli amici, avere un ambiente conviviale dove stare, come un soggiorno, per esempio, prendere una camera d'hotel non è il massimo, perché dall'altra parte, appunto, dovrei in hotel prendere due, tre stanze. Quindi è molto più vantaggioso. Ci sono delle famiglie che viaggiano, ci sono dei gruppi di amici che viaggiano, delle persone che hanno bisogno semplicemente di più spazio. Quindi la domanda è proprio completamente diversa. Poi la risposta, anche più semplice, è guarda come Airbnb o Booking, che sono aziende miliardari, hanno milioni e milioni e decine di milioni di utenti unici, quindi che visitano, non sono ripetuti, ci sono unici che visitano la piattaforma, preannotano su questi portali. Poi, solitamente nei contratti c'è scritto no subaffitto, come agire l'ostacolo? Assolutamente sì. Io, come dico sempre, il subaffitto, ragazzi, è legale. Non è illegale, è completamente legale. Tutelato dal codice civile, articolo 1450... Non vorrei sbagliarmi, magari vi metto uno screenshot qua. C'è una ricerca su Google e lo trovate. Ovviamente nei contratti di affitto, nella maggior parte di questi, c'è scritto no al subaffitto. Questo perché per tutelare ovviamente il proprietario, perché molto spesso magari i proprietari si sono trovati in situazioni dove si trovano una persona magari loschissima che prende il loro appartamento e poi ci mette dentro magari degli immigrati o chissà chi altro lo divide in stanze, tira su dei muri, tutte queste altre cose qua. Quando in realtà noi non facciamo, così è anche il bello di questa attività. Se io non avessi l'ostacolo del no subaffitto avrei 150 immobili a questo punto. Quindi, dall'altra parte, seguendo una procedura, ci sono dei video specifici a riguardo, facendo capire al proprietario che io molto probabilmente sarò il suo ultimo inquilino perché ovviamente ho il massimo interesse a mantenere un rapporto da qui ai prossimi anni a venire. Pagherò costantemente l'affitto perché va nel mio interesse, manterrò sempre l'appartamento perfetto perché ne va della mia reputazione con gli ospiti e un sacco di altre leve, un'assicurazione, eccetera, eccetera. Posso appunto affittare al proprietario o garantire alla reddittività che cerca e in cambio ottenere l'autorizzazione ad accogliere i miei clienti all'interno di quella struttura. Quindi glielo spiego, c'è un modo per spiegarglielo e ovviamente aggiro questa cosa cambiando la clausola da non è consentito subloccare a è consentito subloccare. Semplice, all'interno per esempio di chiave immobiliare, il nostro percorso di punta, di affiancamento, per chi vuole partire da zero, ci sono per esempio tutti i moduli di contratto prestampati. Poi quanto costa far inserire l'apertura e la chiusura di un appartamento con app? Allora, il dispositivo costa pochissimo, ci sono in realtà molteplici soluzioni. La più completa c'è un abbonamento di 20 euro al mese da pagare per 12 mesi. Non c'è l'obbligo ma te lo dicono, puoi pagare 20 euro al mese per 12 mesi per esempio dove ti danno anche servizi aggiuntivi come la raccolta di documenti automatica, comunicazione alla questura, tutte queste cose che ti salvano un sacco di tempo e mal di testa. E dall'altra parte ti costa l'installazione più che altro, dai 100 ai 150 euro più o meno. Se la sai fare non ti costa assolutamente niente. Oppure ci sono varie altre possibilità, con Amazon puoi prendere la maniglia elettronica, puoi prendere la cassetta di sicurezza e magari con 50 euro te la cavi. Quindi le possibilità sono molteplici. Per cercare immobili da subaffitare e negoziare col proprietario? Tocca viaggiare inevitabilmente, giusto? Allora dipende, dipende se sei in una zona di particolare interesse oppure no. Se nella tua zona ci sono già tanti Airbnb, tante strutture, tanti hotel eccetera eccetera che accolgo l'ospite a breve termine potresti non viaggiare. E' ovvio che nel momento in cui devo prendere un appartamento in affitto e devo metterci dei soldi, devo assolutamente visionarlo. Quindi potrei recarmi in una città come sto facendo ora magari per 4 giorni, vado a Torino per esempio 5 giorni, mi godo anche Torino, mi prendo un bel appartamentino, sto lì 5 giorni, faccio degli appuntamenti, magari firmo un contratto, lancio l'appartamento e poi ovviamente automatizzo per non tornarci più per mesi magari, tramite magari anche un PM, tramite gli studenti con cui io sono in contatto eccetera eccetera. E' ovvio che se l'appartamento lo vuoi prendere a distanza o è una persona sul luogo che va a fare l'appuntamento per te a vedere che l'immobile ci sia, che non ci siano dei danni eccetera eccetera, oppure ovviamente tocca a muoversi. Poi come ti organizzi per lavaggio, asciugamani eccetera? Semplicemente con la donna delle pulizie che li lava o in loco, nell'appartamento con asciugatrice, lavatrice, tutti ormai gli appartamenti ce l'hanno o seconda possibilità con semplicemente un lava asciuga o uno di quegli aggettoni sotto casa oppure li le faccio portare a casa e riportare all'interno dell'appartamento il giorno successivo. Poi mi chiedono quanto costa il corso completo? Allora di corsi ce ne sono molteplici, sono video percorsi, corsi, consulenze, percorsi di affiancamento, ce ne sono vari, calcolate che si parte da più o meno qualche centinaia di euro, 200-300 euro in su ovviamente. Qui sotto c'è un link per contattare il mio team su WhatsApp che ti può, in base alle tue esigenze, diciamo indirizzare sul percorso più adatto alla tua situazione. Poi come hai fatto a conoscere questo tipo di lavoro? Torno all'intro che ho fatto tre anni fa, mi è sempre piaciuto investire in immobili, mi è sempre piaciuto avere tanti immobili in cui andare, in cui recarmi, guadagnare in maniera slegata il mio tempo e ho scoperto anche tramite ovviamente l'America, cioè studiando, insomma, vedendo in altre parti del mondo che si cimentavano in questa attività, c'era questo cavillo a livello contrattuale che mi permetteva di prendere il possesso di un immobile senza acquistarlo, non godendo magari dell'apprezzamento, perché non ho acquistato l'immobile, quindi se l'immobile aumenta di valore io non ho questo beneficio, ma dall'altra parte ho il possesso, il beneficio del possesso di quell'immobile per tre anni più due o quattro più quattro, quindi per otto anni posso guadagnare una rendita da questo immobile senza doverlo acquistare. Quindi sono partito, ho fatto un sacco di errori, ho fatto un sacco di errori, ma dall'altra parte la cosa ovviamente è ripagato. Poi, se ho per PM, quali sono gli aspetti burocratici necessari e indispensabili per iniziare? Allora, in PM in realtà non ci sono aspetti burocratici necessari. In sublocazione, corrente all'arbitrage con la prima declinazione, prenderli in affitto per poi destinare gli rifiuti brevi, assolutamente sì, c'è una procedura. Dall'altra parte ti serve solo un mandato di gestione, che è una piccola scrittura privata che non è obbligatoria tra due parti, tra te e il proprietario, dove dici io mi occupo di questo in cambio di una percentuale. Data, firma, luogo, basta. Infatti mi collego alla seconda domanda, che mi chiedono per gestire un immobile di un altro, di un'altra persona su Airbnb, è necessario un contratto? Non è necessario, io ti consiglio di utilizzare il mandato di gestione, che per esempio è incluso all'interno di chiave immobiliare. Una piccola scrittura privata tra due persone che hanno un rapporto, in questo caso di lavoro, chiamiamolo. Ho 15 anni, come iniziare? Allora, a 15 anni puoi iniziare in PM, gestendo proprio tra l'altro in cambio di una percentuale A di investimento zero, senza problemi. Dall'altra parte ti consiglio anche di, perché sei percepito come un consulente, a tutti gli effetti. Quindi puoi iniziare anche a aprire partite, eventualmente in futuro, se le cose ti andranno bene. Per operare corrente all'arbitrage devi avere un tutore per firmare dei contratti di affitto, quello è un pochino il problema. Io ti consiglio di studiare, prenderti per tempo, cominciare a risparmiare, per poi arrivare a ridosso ai 18 anni, che ti assicuro arrivano così in un secondo. Arrivare a ridosso ai 18 anni pronto. Poi, come funziona la sincronizzazione dei calendari su più siti? Quali consigli? Allora, ci sono due principali possibilità. Smobu, che è un channel manager, ce ne sono molteplici, smobu.it.com, cercano, per capire un attimo tutte le features, chiamiamole così, e poi sincronizzarli manualmente. Quindi, copiando con una funzione su Airbnb e su Booking, se utilizzi questi due canali, prendere il link da Airbnb e incollarlo su Booking, e viceversa, quando arriverà una prontazione su uno dei due portali, bloccherà la data su, ovviamente, l'altro portale in contemporanea. Poi, Vittoria mi chiede, qual è stato l'ostacolo più difficile che hai dovuto superare? Allora, per restare sul topic affitti, business immobiliare, eccetera, quando c'è stata la pandemia, dove io comunque stavo tenendo degli ottimi risultati, li ho dimostrati su YouTube, in molti ricci casi studio, quindi mentre tutti gli altri erano vuoti, io stavo comunque occupando il 60, 70, 80%, e diciamo che quando si sa, quando il sangue scorre per le strade, paradossalmente, scusate il parallelismo molto crudo, si possono fare degli affari, quindi mi è capitata la possibilità di prendere un appartamento molto bello, abbastanza costoso, era un investimento di 4-5 mila euro, così, su lunghi, in un periodo, ovviamente, dove non c'erano certezze, e ai tempi per me comunque era un investimento, scusa, non scontato. Ho comunque voluto fare, ho superato questa paura molto importante, e ho avuto dei benefici dopo, veramente importanti, anche perché mi sono un pochino desensibilizzato, ho perso sensibilità da quel punto di vista nel, magari, fare degli investimenti che in questo momento, a diversi livelli nella vita, sono importanti per me. Poi ce ne sono ovviamente altri di ostacoli molto importanti che ho dovuto superare, ma magari sono più privati, e te ne parlerò bene, parlerò in questo caso in un altro video. Poi, una persona può prendere più casi in affitto a suo nome? Ragazzi, assolutamente sì, io non capisco perché abbiate questa credenza sbagliata del non posso avere più contratti a mio nome. Ragazzi, non si parla di mutui, non si parla di finanziamenti, voi potete avere 3, 4, 5 contratti di affitto a vostro nome senza nessun tipo di problema, anche di più. Charlie mi chiede, ciao Marco, volevo sapere se i contratti forniti nel corso a chiave immobiliare sono validi anche in Spagna? Allora, no, sono validi in Italia, perché ovviamente ogni paese ha le sue, diciamo, le sue differenze a livello contrattuale, quindi sono validi ovviamente in Italia. Poi mi chiedono, per iniziare al già lavorare, è obbligatorio comprare uno di quei 3 pacchetti di chiave immobiliare? Allora, ragazzi, non è obbligatorio fare nulla, nessuno vi obbliga a fare nulla, e sono partito, per esempio, senza nessun tipo di corso, anche perché nel 2018, andate a vedere, non c'era assolutamente niente e nessuno, neanche tutt'ora in realtà. Quindi, tu puoi iniziare da solo, ma ci sono studenti che sono seguiti, hanno percorsi di affiancamento, vengono a fare le coaching private, fanno i mastermind, fanno il corso, e ovviamente riescono a ottenere risultati in 30-60 giorni. Tu magari ci metti 7 mesi, come me, per ottenere il tuo premio immobile, o magari fai degli errori madornali che ti costano magari 2.000 euro dopo. Quindi questo ovviamente è normale, non avete skill, non avete competenze, è normale, se ci provate da soli potete farlo, assolutamente, anzi vi esorto a farlo, perché ci sta per rendersi anche qualche bastonata, dal mio punto di vista fa bene, cioè positiva, perché poi vi fa crescere, per poi ovviamente magari affidarvi a qualcuno che vi possa seguire. Me, non me, altre persone, decidete voi. Consigli di iniziare con una casa o con case in città turistica, ad esempio Milano-Roma, oppure anche in città meno conosciute, meno rinomate, tagliate la domanda, ma credo tu voglia dire questo. Allora, io non consiglio di partire da Milano-Roma e per esempio Firenze, sono tre poli insomma molto importanti in Italia, perché c'è molta molta competizione ragazzi, cioè più che altra parità dei prezzi che potete fare, i costi di affitto sono molto più alti. Io consiglio sempre non partite da queste città, potete partire tranquillamente città molto molto più piccole, magari da 100, il target perfetto secondo me ragazzi è tra i 50 e i 200.000 abitanti, è il target perfetto, perché a livello di costi di affitto, il ratto tra costi di affitto e il prezzo che potete fare a notte, siete più o meno lì, cioè magari a Milano potete fare ok 20 euro in pianotte, 50 euro in pianotte, ma se avete i costi di affitto che sono doppi o tripli, capite che il gioco non vale la candela, quindi vi consiglio di partire anche da città più piccole, poi Roma, Milano, con Firenze, non sbagliate, noi abbiamo appartamenti a Roma ragazzi, generano dei numeri veramente importanti. Nel caso contattassi un cliente ho paura che non si fidi nella gestione, in quanto io sono giovane. Guarda, sono giovane anch'io, io sono la prova di questo 21 anni, sono partito quando non avevo 18, e quando in realtà le persone ti vedono come un individuo, seppur giovane, molto preparato, molto professionale, molto con obiettivi appunto, sa quello che deve fare, sa come farlo, è sicuro di sé, guadagnerai punti, non li perderai, anzi, cioè una persona ti perceperà come una persona magari adulta, un individuo adulto, un professionista adulto, ma allo stesso tempo, essendo magari molto giovane, avendo 18, 19, 20 anni. Quindi questa è semplicemente una tua credenza, e non ci sono scuse. Nella fase di ricerca, quasi tutti i potenziali proprietari di casa sono sotto agenzia. Come comportarsi? È normale che la maggior parte degli appartamenti, ragazzi, sanno sempre sotto agenzia immobiliare. C'è un metodo, che è un attimo destinato a persone che hanno già un po' di esperienza, non ha neofiti per collaborare con le agenzie immobiliari. Dall'altra parte non ti servono tanti proprietari con cui fare appuntamenti. Nel momento in cui trovi un proprietario, due proprietari a settimana, per dire che magari non ogni settimana, ogni anche una settimana sì, una fai di pausa tra virgolette perché non trovi degli immobili, la settimana dopo escono altri due immobili, e vai a fare appuntamenti, basta così, basta, avanza. Quando un proprietario ti dice di sì, tu devi entrare nell'ottica che ti sei preso un appartamento, assicurato un appartamento, che per 4 anni più 4, 3 anni più 2 ti pagherà. Quindi non ti servono neanche tutti questi proprietari che ti dicono di sì. Nel momento in cui 1, 2, 3, 4 proprietari ti dicono di sì, magari quell'immobile che hai preso ti genera 1000, 1500 euro netti, e lo moltiplichi per 4, potresti aver raggiunto il tuo obiettivo a livello monetario. Non devi fare delle vendite costanti ripetute, cercare sempre nuovi proprietari. Nel momento in cui trovi 2, 3, 4 proprietari che ti dicono di sì, potresti essere magari a posto. E poi c'è l'effetto compound. I proprietari cominciano a venire da te, ci sono delle referenze ovviamente. I proprietari magari ti consigliano ad altri proprietari amici per farti affidare l'immobile. Questi proprietari acquistano nuovi immobili da investimento e te li danno a te perché si stanno trovando bene. Quindi è un effetto compound. Ciao Marco, per quanto riguarda la tassa di soggiorno come funziona? Molto semplice. Ovviamente tu potrai, in base alla zona, in base al tuo comune, dovrai raccogliere 1 euro, 1 euro 50, 2 euro, 3 euro al giorno e ogni magari mese, ogni due mesi, semplicemente fai un breve conto o lo fai fare come lo faccio io da qualcuno e invii un bonifico al Libano del Comune che ti danno per la tassa di soggiorno. Molto semplice. Ci sono dei servizi anche che ti permettono di automatizzare questa procedura. Quanto ci hai messo ad avere una rendita netta iniziale abbastanza sostanziosa? Dipende. Cioè, più che altro è una risposta, direi, un anno. Però calcola che ci ho messo 7 mesi per prendere il mio primo immobile. Nelle restanti 4 il mio portfoglio è esploso. Cioè, avrò fatto un 200-300% in più. Quindi ho aggiunto molteplici immobili nel giro di qualche mese perché avevo molta più confidence, avevo trovato la quadra. Però in quei 7 mesi io non avevo nessuno che mi facesse questi video, mi spiegasse come funziona, eccetera, eccetera. Quindi potrei togliere quei 7 mesi, farli diventare uno e direi in 5 mesi sono riuscito a creare una rendita abbastanza sostanziosa. Anche perché la differenza tra questo business e un altro business, magari online, anche se questo è un po' più che solido con sottostante che si lega a qualcosa di reale e fisico. Una volta che raggiungi, per esempio, i 3.000 euro al mese, 4.000 euro al mese di rendita dagli appartamenti, hai raggiunto quell'obiettivo lì. Non dico che nessuno te lo può togliere perché non siamo dei dipendenti statali, ma d'altra parte generare, per esempio, 5.000 euro al mese di... 5.000 euro una volta di vendita online è molto più semplice che avere 5.000 euro di rendita dagli immobili. Ma quei 5.000 euro fatti di vendita online il mese dopo non ce li avrai, molto probabilmente, oppure devi fare molta fatica per riconfermare questi 5.000 o aumentare. Mentre con gli immobili, questo ti permette una caratteristica degli investimenti immobiliari, ti permettono di avere una stabilità, ovviamente, di avere una base che continua a pagarti costantemente nel tempo. Quindi dal mio punto di vista c'è da valutare anche la qualità del denaro piuttosto che la quantità. Poi domanda, investi crypto? Ti sei mai interessato il mondo crypto NFT? Mi sono interessato molto, ne ho sempre parlato bene di queste crypto volute. NFT è un mondo veramente interessante. Investo? Sì, dall'altra parte vi esorto a seguire la piramide degli investimenti, cioè una piramide dove alla base c'è il mio business, alla base ci sono gli appartamenti. Quello che cascasse il mondo, tra virgolette, ovviamente sempre con le giuste premesse, mi paga costantemente. Quindi io investo la maggior parte dei miei soldi e rinvesto anche la maggior parte dei miei soldi nel mio business principale, quindi devo acquisire sempre più appartamenti che mi permettono di avere sempre più entrate. Da lì, ovviamente, prendo una parte di questi soldi lì, una piccola parte lì, li utilizzo per il mio stile di vita personale, una piccola parte la rinvesto, anzi una grande parte la rinvesto nell'azienda, un'altra parte la destino ad investimenti magari in altri settori, in questo caso come magari le cryptovalute, e principalmente investo in ETF, quindi indici diversificati che replicano magari i mercati più potenti del mondo, più grandi del mondo, il mercato americano, il mercato cinese, emergenti anche, eccetera, eccetera, che si apprezzano ovviamente a un investimento a lungo termine, in più magari un 30-40% di questo, di quello che destino agli investimenti diversificati, viene destinato anche alle cryptovalute, agli NFT, eccetera, eccetera. Quindi un mondo molto interessante, ma se avete 1.000, 2.000, 3.000 euro, non prendeteli e metteteli in una crypto, o in un nuovo token che appena ha fatto l'IDO, perché non ha senso. Innanzitutto molto spesso non sapete come gestire la parte emotiva di questa cosa, è difficilissimo essere dei trader. Secondo, è un lavoro a tutti gli effetti, e voi cercate la crypto, il token, meglio, che vi faccia il 1.000%, quando le possibilità di ottenerla sono, diciamo, inferiori a quelle che potreste avere investendoli in un appartamento che non vi fa il 1.000%, ma vi dà magari 1.000 euro, in questo caso, netti al mese, fissi però, in maniera costante ripetuta. Poi quei 1.000 li potete prendere e metterli in un token, che magari se diventano 10.000, bene, ma nella maggior parte dei casi diventano zero. Quindi seguite la piramide degli investimenti da le cose più sicure fino ovviamente agli investimenti più speculativi. Quindi createvi una base e una sicurezza. Poi con 30k di budget, posso partire bene, con 30k di budget si possono fare grandi cose. Io sono partito con 2.000 euro nel mio primo appartamento, li ho anche chiesti in prestito. Calcola che tu devi prendere il costo di un appartamento e moltiplicarlo per 4. 3-4, due mesi di deposito, cauzionale che non è neanche una spesa, è un'uscita perché poi ti ritorneranno, la prima mensilità di affitto e un'altra mensilità per spesa, per abbellirlo, per prendere le luci, per installare i dispositivi di self-check-in, eccetera. Che metodi di pagamento bisogna mettere nel nostro annuncio su Airbnb? Tutti quelli che vuoi, bonifico bancario, carta, ci sono tantissime carte, PayPal, qualsiasi tipo di metodo di pagamento va assolutamente bene. È difficile arrivare ad occupare un appartamento per 10 giorni? No, è la base. Cioè io parto da questa... Seguo la regola, tutti i miei studenti, i miei appartamenti seguono la regola di 10 giorni. Cioè un appartamento in 10 giorni deve coprire tutti i costi e avere 20 giorni di puro profitto. Funziona sempre così, calcola che il mio periodo peggiore, l'ho dimostrato più volte, ho messo un track record di 24 mesi in pratica, di 12 mesi, ma ormai ne sono passati altri 12, quindi ne ho messi 24, dove a gennaio 2020 ho, il mio mese peggiore, in pandemia, zona rossa, non ci si poteva muovere di casa, quindi su 30 giorni ho occupato il 43% di questi, che sono più o meno 13. 13 giorni ho occupato su 30. Ovviamente in quel mese ho generato un piccolissimo profitto, quasi nulla, ma ho coperto tutti i costi comunque. Quindi non ho mai perso un euro con questa attività. Questo lo dico senza problemi, in maniera totalmente trasparente. Quale è stato il mio mese è ovviamente peggiore. Vi faccio vedere gli alti, come vi faccio vedere anche i bassi. Quindi se un appartamento, io non sono sicuro di poterlo riempire, di poter coprire i costi in 10 giorni, non è una buona operazione. Documentazione obbligatoria da chiedere al proprietario per avviare il PM. Ripeto, si collega la domanda di prima, non c'è una documentazione necessaria se non il mandato di gestione che è incluso all'interno dei contratti.